Buonasera a tutti, grande pallavolo anche in questo appuntamento di Volley Time, un Emma Villas straordinaria accoglie la qualificazione alle semifinali dei playoff della Serie A2 battendo sonoramente Tuscania con un altro 3-0 anche fra le mura amiche, dunque si proietta verso la fase decisiva del campionato continua ad andare avanti e soprattutto un Emma Villas che sembra in costante crescita in questo finale di stagione ci lascia ben sperare per quelli che saranno i prossimi incontri Parleremo diffusamente di quello che è stato e di quello che sarà insieme a Filippo Pochini che è venuto a trovarci nei nostri studi, libro dell'Emma Villas, ciao Filippo, buonasera Ciao, buonasera a voi, buonasera Intanto grazie per essere qua, tracciando un po' un tuo identikit, sei stato protagonista di due promozioni dell'Emma Villas negli anni scorsi, poi sei andato a fare altre esperienze a Santa Croce e a Gioia del Colle e sei tornato quest'anno a vestire la maglia Elma Villas con un grande contributo in tanti momenti decisivi della stagione Sì, la mia avventura all'Emma Villas è iniziata 5 anni fa in B2 mi ricordo un giorno d'estate, mi chiamo Fabio Mechini che lo conosco, il direttore sportivo che lo conosco da parecchi anni e mi presentò questo progetto ho accettato subito e devo dire che è andata molto bene, ho fatto due anni fantastici a Chiusi, all'Emma Villas dopo ho fatto due anni fuori, tra cui Santa Croce e Gioia del Colle e quest'anno appena il presidente Gianmarco mi ha chiamato ho risposto subito presente e devo dire che fino adesso è stata una stagione più che positiva Insomma i risultati vi stanno dando ragione perché da qualche mese a questa parte soprattutto dall'avvento di Coccio Cichello le cose stanno andando veramente molto molto bene andiamo a vedere quello che è successo nell'ultimo fine settimana con come detto la vittoria dell'Emma Villas andiamo a commentare anche quelli che sono i risultati delle altre con Gioia del Colle che riesce a strappare l'accesso a gara 3 contro Roma battendola per 3-2, una partita attiratissima perché i set sono finiti 14-25 quindi sembrava una strada abbastanza in discesa per Roma però poi 25-20, 20-25, 25-23 e 19-17 il tie-break una battaglia durata 2 ore e 4 minuti quella che ha visto appunto trionfare i ragazzi di Gioia del Colle che andranno a gara 3 nel prossimo turno quindi in questo mercoledì contro Roma Emma Villas che batte per 3-0 la Mauriz italiana Assicurazioni Tuscania con parziali a 20-20 e 18 dunque un'altra prestazione molto buona e soprattutto un risultato importantissimo considerate le premesse di questo playoff in cui oggettivamente Tuscania sembrava partire come favorita invece l'Emma Villas ribalta completamente i pronostici con due tutto sommato anche abbastanza facili 3-0 accede alle semifinali altro risultato abbastanza a sorpresa arriva dalla partita di Spoleto dove Santa Croce ribalta anche qui la serie andando a vincere per 3-2 sul campo di Spoleto e porta dunque la sfida alla bella in casa a gara 3 mentre l'altra squadra che accede alle semifinali dopo questa gara 2 è Bergamo che batte non senza soffrire con un 3-2 lottatissimo anche qui 2 ore e 2 minuti di gara batte Brescia nel derby Lombardo ed accede dunque alle semifinali per quanto riguarda il tabellone dei playoff Siena aspetta la vincente della sfida fra Gioia del Colle e Roma mentre Bergamo aspetta la vincente della sfida fra Spoleto e Santa Croce sicuramente Filippo dei risultati abbastanza rocamboleschi soprattutto non ci si aspettava la vittoria dei tuoi ex compagni di Gioia del Colle contro Roma e ci raccontavi anche nei dettagli sei andato a vedere Spoleto che probabilmente ha buttato via un set contro Santa Croce per un errore possiamo dire del tecnico insomma succede di tutto in questi playoff Sì, sono dinamiche che nei playoff diciamo succedono, capitano e ieri sì con i miei compagni eravamo tutti diciamo connessi davanti a Lega Volle aspettando infatti i risultati finali in cuor mio sono contento per Gioia del Colle perché l'anno scorso ha fatto veramente un anno fantastico e quindi merito ai ragazzi ovviamente è un risultato inaspettato perché sappiamo la forza di Roma e oggettivamente ha qualcosina forza in più di Gioia però alla fine la palla è rotonda quindi in merito ai gioiesi per quanto riguarda l'altra partita Santa Croce anche un'altra mia ex squadra sì c'è stato diciamo un set abbastanza rocambolesco il secondo dove era avanti Spoleto 23-20 e poteva chiudere la partita invece alla fine Santa Croce è riuscita a ribaltare il risultato adesso attendiamo con ansia diciamo il mercoledì gara 3 e vedremo chi bisognerà affrontare e poi ne parleremo successivamente una sfida abbastanza stimolante quella che eventualmente potrebbe mettere di fronte l'Emma Villas alla Scarabeo Roma se i pronostici saranno rispettati al di là di quello che è successo sugli altri campi grande affermazione dell'Emma Villas Filippo che conferma il 3-0 già imposto in terra laziale sul campo di Viterbo contro Tuscania lo conferma in casa con una partita ho detto facile guardando il punteggio però se si guarda l'aspetto tecnico è una partita che l'Emma Villas sia all'andata che al ritorno ha giocato veramente ad altissimi livelli sì sono state due partite importanti sia per quanto riguarda certamente il passaggio del turno sia come hai detto te prima per una crescita nostra che l'ho messa a questa parte veramente è visibile le partite non sono mai facili nonostante i punteggi lo fanno sembrare abbiamo fatto una grandissima gara a gara 1 a Tuscania ma credo che il salto di qualità l'abbiamo fatto a Siena perché nel secondo sette terzo eravamo punto a punto se non in svantaggio e lì siamo riusciti insomma a prendere le redini del gioco e superare Tuscania momenti così difficili che secondo me un po' di tempo fa un mese fa due mesi fa non eravamo così lucidi da approfittare dei loro sbagli in più a Siena devo fare diciamo un applauso al pubblico che ci ha sostenuti veramente dal primo minuto all'ultimo è stata davvero una bella atmosfera quella che si è respirata sabato al Palaestra andiamo a vedere le immagini di questa bella partita vinta dall'Emma Villas Emma Villas che è scesa in campo con Fabroni al palleggio Vandaico opposto Vedovotto e Fedrizi schiacciatori al centro Spadavecchia e Melo Giovi libero risponde Tuscania con Pedroni in regia Mocaschi opposto Cernice e Schavrak in banda Piscopo e Festi centrali il libero e Bonami arbitri della partita sono Saltalippi e Bellini si parte con il servizio di Festi ricezione di Vedovotto è alzata in quattro per Fedrizi che viene murato copertura di Vandaic palla di nuovo per Vedovotto che stavolta trova il punto in parallelo l'Emma Villas inizia subito forte due ice per Fabroni Van Dijk sempre puntuale in attacco e Biancoblu dominano in quest'azione vediamo Vedovotto sulla bella copertura di Giovi che conclude al meglio trovando il tocco degli ospiti ospiti che sono molto fallosi al servizio sette gli errori nel primo sette non riescono a trovare continuità nel gioco Tuscania prova a rifarsi sotto e vediamo con Shavrak in pallonetto sigla il 18 a 15 nelle fasi conclusive del set la squadra allenata da Montagnani gioca con grande caparbietà ma continua ad avere grandi difficoltà a trovare fortuna in attacco vediamo quest'azione in cui sono tanti i tentativi di Tuscania che viene spesso contenuta dal muro dell'Emma Villas sono addirittura tre gli attacchi che servono a Cernice e compagni per mettere la palla a terra set point per Siena al servizio Bargi la Mauriz costruisce per Shavrak che però manda out 25 a 20 per i bianco blu stesse formazioni nel secondo set con Fabroni in battuta lo vediamo il capitano dei Leoni che si appresta con la sua salto spin arriva però l'errore il primo punto per Tuscania questa volta Siena non riesce a scappare via anzi è Tuscania a conquistarsi un vantaggio con Moskalski e Cernici autori di punti di pregevole fattura vedo voto a qualche difficoltà in ricezione e ne approfittano gli ospiti che confezionano una bella pipe con Shavrak è un buon momento per la Mauriz ma il muro senese comincia ad affilare le armi come in questa occasione con un rocambolesco salvataggio e Cernici che riceve la stampata di Melo siamo sull'11 a 14 vediamo questa azione con il servizio di Moskalski Fabroni chiama in causa Van Dijk di seconda linea ma Tuscania salva miracolosamente free ball per l'Emma Villas Fedrizi lo vediamo in pipe viene preso a muro ma la palla finisce in maniera rocambolesca vedo voto che trova il money out tripudio al palaestra pochini da fiato in seconda linea vedo voto mentre davanti Fedrizi sale in cattedra Tuscania prova a controbattere ma quando tenta di chiudere il punto trova un muro invalicabile con spara vecchia sugli scudi come in questo caso 22 a 17 non poteva che essere un altro strepitoso muro lo stiamo per vedere a chiudere il parziale questa volta è Melo a scattare la foto del 25 a 20 in faccia a Shavrak i due tecnici non cambiano nel terzo parziale che inizia con il servizio di Dimitri Shavrak lo vediamo in questo istante la banda di Tuscania servizio sul nastro e vantaggio Emma Villas la Mauriz si affida all'esperienza dei suoi veterani Cernic e Piscopo e si porta fino al 1 a 5 a inizio set ma viene presto recuperata da Siena che rimette la testa avanti tanto per cambiare con il muro di Vedovotto Tuscania comunque non molla siamo nella fase centrale del set 13 a 10 per l'Emma Villas Pedrone bravo a smarcare i festi che chiude in primo tempo Emma Villas ancora avanti sul 20 a 17 azione dei Viterbesi con palla per Shavrak che trova la strada sbarrata da Fabroni e Spadavecchia il numero 5 bianco blu è protagonista di questa fase del match e si esalta con il pubblico lo abbiamo visto anche in questo frangente è un finale magnifico per Siena che annichilisce Tuscania e si porta sul 24 a 18 gioia incontenibile quando Cernic non ha scampo contro le manone di Van Dijk 25 a 18 si chiude in un tribudio in una festa senese in mezzo al campo con i giocatori bianco blu ad esultare sul Taraflex e poi circondati dai tifosi per foto ed autografi bello anche il tributo dei supporter ospiti ad una squadra che ha comunque affrontato con grande onore questo bel campionato a livello di numeri possiamo dire che spiccano i 14 muri punto dell'Emma Villas nei 3 set davvero impressionanti in questo fondamentale la squadra allenata da Cichello chiudono con 15 punti a testa Fedrizi e Van Dijk mentre dall'altra parte della rete è notte fonda per l'opposto Mokalski che un po' come all'andata raggiunge un misero 30% in attacco Mokalski che ricordiamo solo qualche settimana fa nella partita della Pula era venuto a Siena a fare il diavolo a 4 aveva messo in difficoltà davvero la difesa bianco blu Filippo commentando un po' quello che abbiamo visto e quelli che sono i numeri di questa partita battuta e muro determinanti Sì hai detto benissimo noi siamo una squadra che diciamo la fase break quindi muro difesa siamo molto forti siamo molto forti perché abbiamo 5 battitori in salto su 6 e credo siamo l'unica squadra in questa serie a 2 abbiamo quindi battuto veramente bene in queste due partite e tenuto credo i due attaccanti principali ovvero i due straniere di Toscania sono Shavrak e Mokalski soprattutto l'opposto americano detto ciò comunque abbiamo credo meritato questa vittoria in tutti i fondamentali sia anche la fase di cambio palla che è il motore del nostro gioco e secondo me sì possiamo ancora migliorare perché magari a volte facciamo degli errori banali però credo che siamo sulla strada giusta ora ci aspetta la semifinale però prima attendiamo l'esito di gara 3 di Gioia e Roma andiamo a sentire anche le parole di quello che spesso vai a sostituire di Filippo Vedovotto che ha comunque giocato un'ottima partita spesso messo sotto pressione e ricezione ne parleremo tra poco anche con te Filippo andiamo a sentire le parole di Vedovotto siamo riusciti a concretizzare quello che avevamo studiato durante il campionato loro a parte i quarti di Coppa Italia ci avevano sempre battuto e quindi abbiamo dovuto studiare molto quelle due partite che avevamo sofferto molto in quasi tutti i fondamentali siamo riusciti ad applicare bene queste cose e abbiamo portato a casa la serie adesso ai playoff qualsiasi squadra è pericolosa che sia Roma o che sia Gioia del Colle sicuramente non sarà non sarà una semifinale semplice è chiaro avremo un po' più di possibilità perché comunque si giocherà il meglio delle cinque gare quindi intanto ci godiamo questi quarti vinti e cerchiamo di recuperare le energie Filippo anche oggi come era successo in gara 1 percentuali molto buoni in attacco ma come dicevamo anche a Viterbo l'approccio giusto da parte vostra approccio da playoff grintoso dall'inizio alla fine senza cali di concentrazione sicuramente è quello che ci è mancato un po' anche durante l'anno la mentalità giusta da quando è arrivato Manuel abbiamo cercato di cambiare molto questo e il lavoro si vede lui c'ha una grandissima mano quindi speriamo di continuare così con questo appiglio giusto e continuare con questa grinta Bosso stava facendo un ottimo campionato è chiaro che Kai ha un'altra esperienza è più grande sta dimostrando un ottimo gioco sicuramente siamo tutti degli ottimi giocatori e finora ci ha portato qui anche Bosso quindi devo dire che è grandissimo merito suo è ovvio Kai sta facendo molto bene ma sta facendo molto bene tutti era tutt'altro che scontato riuscire a vincere 2-0 una serie contro una squadra molto forte come abbiamo visto in queste due partite ma non solo come Tuscania oggi è risultato acquisito cosa pensi cosa ti viene in mente sicuramente ai quarti abbiamo preso una delle squadre più forti del campionato anche perché nel loro girone sono sempre state fare prime poi specialmente giocare la prima a gara 1 lì da loro in un campo molto rognoso molto difficile non era semplice e devo dire che lì è stata la chiave di questa serie vincere in casa da loro poi qui diciamo è stata leggermente più semplice magari davanti al nostro pubblico e che c'è stata una grandissima grinta e abbiamo fatto un'ottima gara vedo Votto che come detto sta comunque continuando magari servito un po' meno di quello che era il suo roste il suo tabellino è un attacco a inizio stagione però sicuramente continua a fare abbondantemente il suo Filippo tu lo sostituisci spesso nel giro di seconda linea anche perché spesso gli avversari lo cercano in ricezione e magari come dire viene sfruttata la tua grande abilità in questo fondamentale per dare un po' fiato a un giocatore che si impegna molto anche davanti sì questo è vero scusami voglio tornare un attimo alle parole di Filippo dove ha detto giustamente che abbiamo preparato questa partita credo nei massimi dettagli infatti volevo dare una nota di merito anche allo staff che da quando abbiamo fatto Gara 1 abbiamo fatto sempre video ogni giorno e quindi abbiamo studiato la partita nei minimi dettagli tornando a Vidovot è un giocatore fondamentale per l'Emma Villas per la squadra perché credo in attacco ha sempre avuto percentuali altissime poi gioca una palla velocissima con Fabro dove si trova una meraviglia quindi credo che è indispensabile oramai sì ogni partita c'è il cambio poi ci scherziamo anche perché entra Filippo esce Filippo e sì se posso do una mano visto che insomma il fondamentale della ricezione è quello dove mi trovo meglio e anche diciamo per far rifiutare Filippo è vero che tutte le squadre la maggior parte lo cercano in ricezione però credo che ha tenuto bene queste due partite benissimo e quindi ecco ogni volta che entro cerco di dare il mio massimo sostegno ma credo che anche Filippo sia in grado insomma di raggiare bene questo fondamentale certo però è un cambio tecnico il tuo che in certi momenti della partita lo si vede da assolutamente un qualcosina in più a questa squadra torniamo tra poco per continuare brevemente a commentare la vittoria contro Tuscania e poi ci proietteremo verso le semifinali anche se per ora non si conosce l'avversario dell'Emma Villas grazie a tutti